Onorevole Renzi oggi ad Atessa in una zona che come ricordava anche Camillo Adalessandro ha ottenuto fondi cospicui quando lei era al governo, però adesso ne servono altri. Un'era geologica fa, l'importante è far partire le opere pubbliche che allora abbiamo finanziato per l'Abruzzo circa 2 miliardi di euro, tra cui la strada principale Fondovalle che è probabilmente una delle strade attese da decenni, però accanto a questo c'è un tema, questo è un settore dove si lavora, dove non si campa di sussidi e di redditi di cittadinanza, però bisogna aiutare gli imprenditori a creare ancora più posti di lavoro e per questo con Italia Viva, con Camillo e con tanti amici stiamo lavorando. Si parla di un grande centro, lei fa abbrividire l'ipotesi di un'alleanza con qualcuno del Partito del Tonno, Giggino Di Maio ad esempio? Dai, parliamo di cose serie. L'organizzatore di questa interessante serata con Matteo Renzi è il referente regionale, possiamo dire, di Italia Viva, Camillo D'Alessandro. Una serata dove c'è stata molta attenzione, molta partecipazione su tanti argomenti della vita politica nazionale e regionale. Come è andata questa serata secondo te? Ma lei è stato testimone della grande presenza di imprenditori, professionisti e anche cittadini, amministratori locali del territorio. Siamo riusciti nell'obiettivo che ci eravamo proposti, cioè accendere i riflettori su questa realtà e più in generale sulle politiche industriali che mancano in Abruzzo, che inevitabilmente si legano con le politiche infrastrutturali, di sviluppo, di strategia della regione Abruzzo. Quello che sta accadendo nel mondo, questo ci ha spiegato oggi Renzi, è talmente veloce che se non siamo capaci di organizzarci verremmo travolti. Ora il punto è questo, come ci si organizza e per fare che cosa? Avremo bisogno di pensiero e di azione. Sono molto preoccupato per la sciatteria che c'è in Regione perché governano come se vivessimo in tempi neutri, invece qui viviamo in tempi eccezionali. A proposito di questo, purtroppo la regione Abruzzo da diversi anni cambia continuamente l'amministrazione. Questo non è un buon segno perché si va sempre peggio? Sì, ogni cinque anni in Abruzzo cambia il segno politico e dovremmo chiederci perché. Perché i cittadini ogni cinque anni non sono soddisfatti della regione indipendentemente dal colore politico. E questa è una riflessione che a me convoca particolarmente, anche perché io sono stato tra i legislatori in Regione, in maggioranza, in minoranza, in maggioranza, so che cosa significa. E secondo me questo accade perché la regione non è percepita né vicina e né distante, cioè è percepita come un ente quasi problematico sulla vita dei progetti di vita delle famiglie e delle imprese. Ecco, siccome però siamo una piccola regione, 1.300.000 abitanti, veramente ci vuole solo il lavoro per concepirsi regione in funzione di una regione piccola come siamo noi. Questo non accade perché prevalgono altre logiche e dovremmo ripartire proprio da qui. Ecco, D'Alessandro, un paio di argomenti che stanno a cuore agli abruzzesi, la sanità, ma noi per esempio qui abbiamo il problema delle infrastrutture, lei si è prodigato molto soprattutto per il porto di Ortona. Partiamo da questo argomento perché mi sembra delle notizie ci sono positive. E poi però la sanità, mancano degli accordi politici per decidere l'idea di secondo livello e quindi ogni provincia vuole dalla sua parte questa idea di secondo livello. Ma intanto parliamo delle infrastrutture. Se pensiamo alla Val di Sangro, gli ultimi grandi investimenti sono stati fatti ai tempi della Cassa del Mezzogiorno, ai tempi di Gaspari per semplificare, da allora non è accaduto più nulla, né sulla strada né sulla ferrovia. È dovuto arrivare Renzi da Firenze a fare il Presidente Consiglio per donarci due miliardi di masterplan con i quali stiamo facendo il famoso cantiere della Fondo Valle Sangro, ma allo stesso tempo va a rilento la Fondo Valle Ferroviaria, va a rilento l'intervento su Contrada Saletti e va a rilento l'intervento sul porto di Ortona perché come sanno gli abruzzesi sono stati definanziati 35 milioni di euro e mentre tu li definanzi altri porti, non in Abruzzo, in altre regioni o altre regioni europee si attrezzano. Dopodiché c'è il problema che le pone della sanità. Ora o lo capiamo quello che è successo con la pandemia o altrimenti ritorniamo esattamente da punto e da capo. C'è stato un tempo che la spending review si scaricava sulla sanità. Ha riguardato anche noi quando governavamo, c'erano delle leggi, c'erano dei canoni, c'erano degli obiettivi ed eravamo commissariati, cioè non avevamo potere di decisione. Oggi l'Abruzzo, grazie a noi, è uscito dal commissariamento, la regione avrebbe potere illimitato di decidere. Il problema è che non lo fa, per quello che diceva lei, non sono capaci di decidere le idee di primo e secondo livello ma soprattutto non sono capaci di portare la medicina sul territorio. Ogni volta è un gioco di parole e nel frattempo i territori si impoveriscono. Per concludere, d'Alessandro, un tema più a carattere nazionale, c'è una parte di elettorato italiano che sente la mancanza del grande centro perché obiettivamente la maggior parte dei cittadini della nostra penisola sono di orientamento moderato. Ci sono lavori in corsi per la ricostruzione della vecchia balena bianca, diciamo così? Balena bianca credo di no, però quest'area esiste in natura ma non esiste chi la rappresenta, anche perché sono troppi che la vogliono rappresentare. Se ci fosse generosità, vale per l'Abruzzo e vale per l'Italia, di mettere insieme i tanti che hanno più o meno le stesse idee e farli convergere, io credo che nel giro di poco tempo non è che sarebbe un contorno a qualche coalizione, sarebbe veramente il primo partito o comunque la prima area politica culturale del Paese. Questo non si fa perché intanto c'è una legge elettorale che ti divide centrodestra e centrosinistra e per quanto ci riguarda se dobbiamo decidere tra Salvini e Melone e PD chiaramente scegliamo il PD, ma il problema è che il PD non sceglie il centro, sceglie a volte Conte, a volte altre degenerazioni del genere. Ora c'è un fatto nuovo, vedremo come finisce, però quello che raccontavano in Italia e anche in Abruzzo, l'asse PD 5 Stelle anche per il futuro della regione è saltato, non c'è più e quindi siccome ogni cinque anni in Abruzzo cambia corone politico perché c'è un'area al centro che una volta vota uno e una volta vota un altro, o tu incroci quell'area o non vinci l'elezione e noi siamo qui proprio per fare questo lavoro.